Buonasera e benvenuti alla 51esima conferenza del Centro Culturale. Buonasera, amici del timone di Stagia Senese. L'incontro di stasera vuole presentare il bestseller del 2011, Sposati e si sottomessa, pratica estrema per donne senza paura. A parlarcene abbiamo l'onore di avere l'autrice, la dottoressa Costanza Miriano, che come dice nel libro è sposata, sottomessa e ha quattro figli. Si definisce cattolica e perciò quasi sempre di buon umore. È giornalista al TG3. Nella parte finale del libro ringrazia Dio, i pontefici Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, la Chiesa Cattolica, il marito, i figli e i molti amici. Per Costanza stare sottomessa vuol dire stare in un ruolo importantissimo, poiché è chi sta sotto, chi regge le sorti della famiglia. Pronunciare la parola sottomissione al giorno d'oggi fa paura e d'essa subito risentimento. Eppure stare sottomessi alla persona che si ama è la cosa più bella che esista, e confermo. Dopo il 68, questa pare una bestemmia, ma è la pura realtà. Nelle culture non cristiane la sottomissione della donna significa togliere la dignità umana. Invece nel cristianesimo è ben chiaro che la dignità è la stessa per ogni essere umano, uomo o donna, adulto o bambino, appartenente a qualunque fascia sociale o etnica. Questa uguaglianza di dignità però non significa uguaglianza di compiti, essendo l'uomo diverso dalla donna. Non si tratta di superiorità, ma di diversità. Personalmente il libro da prima mi ha incuriosita, poi l'ho letto con avidità, e successivamente sono ritornata a consultarlo per gli ottimi consigli che dà, e quindi ve lo consiglio, insomma, se ancora non l'avete letto. Prima di dare la parola a Costanza, scolteremo un'introduzione all'affascinante tema della serata. Per questa introduzione abbiamo il piacere di avere con noi, per la sesta volta a Stagia, il professor Mario Palmaro, presidente del Comitato Verità e Vita, docente di filosofia del diritto all'Università Europea di Roma, conduce su Radio Maria la trasmissione Incontri con la Bioetica, fa parte della redazione del timone. A termine, come sempre, potete fare le vostre domande. Lascio la parola a Mario Palmaro, ringraziandolo per la sua gradita presenza tra noi, e successivamente a Costanza ringraziando anche lei, ovviamente. Buona serata. Io credo che tutti abbiamo fatto l'esperienza almeno qualche volta, devo parlare più vicino, vero? Anche se è la sesta volta non l'ho ancora capito, ma... Dicevo che tutti abbiamo fatto l'esperienza almeno qualche volta, soprattutto noi maschietti, di giocare a calcio in un campo, così, organizzandosi in qualche modo. L'importante è che ci sia un pallone. Però il pallone non basta. L'altra cosa che è necessaria per giocare è essere d'accordo sulle regole e poi stabilire dove ci si mette in campo. E spesso nascono delle discussioni, no? Tu fai il portiere, tu stai in difesa, tu stai all'attacco, ed è normale che nascano queste discussioni perché i bambini vorrebbero essere tutti attaccanti e tutti fare gol e tutti tenersi il pallone che quando uno ce l'ha tra i piedi vorrebbe non passarlo mai. Però poi cosa si scopre giocando? Che vince non chi tiene il pallone sempre tra i piedi e non vince nemmeno chi ha tutti che vogliono fare gli attaccanti o non vince nemmeno chi è fatto da una squadra di persone che pensano di essere protagonisti costantemente. Ma nel calcio, come nella vita, vince la squadra nella quale tutti fanno la loro parte. E nella famiglia è inutile nasconderselo, come in un'azienda, come in uno Stato, in una nazione. Questa regola dettata dal gioco del calcio vale sempre. Vince, o quantomeno non perde, chi riesce a tenere tutti al proprio posto. Cioè vince quella realtà nella quale ognuno è contento di fare quello che fa. Forse anche la riserva. Se tutti vogliono essere protagonisti, si perde. A mio parere il libro di Costanza Miriano è un libro che dice esattamente questa cosa. Cioè ripropone brutalmente il problema di una riflessione necessaria sui ruoli all'interno della famiglia. Perché la crisi del matrimonio a cui noi assistiamo e che è un fatto, non è una, come dire, una opinione ormai, è un fatto quantitativamente misurabile, ma anche qualitativamente misurabile, questa crisi è una crisi che nasce dal fatto che ci siamo stancati di assolvere ciascuno al proprio ruolo. Anzi, alla base di tutto c'è l'idea che i ruoli non devono più esistere. Ovviamente quest'approccio è un po' brutale perché affronta di petto una questione che non è teorica, ma molto pratica, molto concreta. Quindi mi verrebbe da dire tante volte, anche in base alla mia esperienza, quindi per quello che può valere sia come prima fidanzato e poi alle volte come relatore nei corsi di preparazione al matrimonio, questo approccio io non l'ho mai, ho quasi mai sentito in quella sede, perché in quella sede prevale un approccio molto più, se vogliamo, elevato tante volte, no? Cioè alle volte è come se si passasse quasi sopra la testa di questi ragazzi. magari si dedicano due o tre serate al Cantico dei Cantici, che è bellissimo, interessante, però tante volte mi chiedo un giovane, una giovane di oggi che cosa possano portare a casa di una riflessione esegetica su questa pagina del Vecchio Testamento. E non si ha invece a mio parere il coraggio di dire brutalmente a questi ragazzi che il matrimonio è certamente una bellissima questione di amore, di dedizione, di affetto, quindi con tutto il trasporto che il fidanzamento si porta con sé, possibilmente non durando vent'anni, perché poi il trasporto a un certo punto è come nei giorni di sciopero, finisce, ma nonostante il trasporto possa essere un elemento importantissimo e bello di questo momento della vita, è altrettanto vero che il matrimonio è questa partita in cui si vince se ciascuno accetta un ruolo. Allora, Costanza Miriano entra direttamente dentro questo argomento non attraverso questa metafora il suo libro è un libro più raffinato di quanto potesse essere questo mio esempio ma comunque il tema è quello e lo fa brutalmente riprendendo una visione del matrimonio autorevolissima che è quella di San Paolo di Paolo di Tarso con una tesi che sviluppa in tutto il libro e di cui poi forse ci parlerà anche stasera e cioè che quello che il Nuovo Testamento propone come modello matrimoniale ricollegando alla figura maschile un ruolo che è quello della protezione della guida della sicurezza e al ruolo femminile che è quello invece della pazienza dell'accoglienza adesso sto semplificando cose che nel libro vengono dette in modo molto più ricco ma per intenderci questo è quello di cui stiamo parlando e si rifà quindi a un modello che viene descritto mirabilmente da Paolo di Tarso il quale dice a un certo punto in realtà in più passaggi anche delle sue lettere mogli state sottomesse i vostri mariti e voi mariti amate le vostre mogli come Cristo ama la Chiesa quindi con una con una visione con un'architettura che descrive non una condizione sociale dell'epoca ma una teologia del matrimonio chiaramente è una proposta che è sconvolgente oggi è sconvolgente da un lato perché c'è questo tema della sottomissione dall'altro lato perché c'è questa immagine dell'amore di Cristo per la Chiesa che ci lascia indifferenti magari perché uno dice ma di che cosa stiamo parlando non si capisce che queste due cose sono tutte e due grandissime e non si potrebbe quasi fare una classifica di quale di queste due cose sia più difficile perché amare la moglie come Cristo ama la Chiesa vuol dire amarla di una dedizione totale e se uno la ama in questo modo nell'esercizio del comando non potrà essere arbitrario essere violento essere prevaricatore così come il Papa esercita per volontà di Cristo il comando ma il Papa non è prevaricatore quindi è chiaro che tutto questo poi rappresenta anche un ideale da realizzare e gli uomini nel realizzare questi ideali grandi lo fanno con le loro miserie con le loro debolezze gli uomini e anche le donne ovviamente ma questa è giusto per entrare un po' brutalmente in argomento la prospettiva di questo libro che io non esito a definire straordinario di solito chi presenta un libro ovviamente lo definisce straordinario però in questo caso lo dico con cognizione di causa perché insomma devo dire anche una piccola notazione autobiografica che vent'anni fa andavo iniziavo a fare qualche piccola conferenza parlando anche di questo tema del rapporto uomo-donna non con questa proprietà di linguaggio ma del libro di Costanza Miriano ma comunque si dicevano queste cose e insomma c'era proprio da rischiare anche fisicamente no? perché ma soprattutto in ambito cattolico perché non possiamo nasconderci che l'ambiente dove più è stata espulsa dall'orizzonte questa cosa che stiamo dicendo oggi è paradossalmente il mondo cattolico cioè noi oggi incontriamo spesso persone anche di estrazione molto diversa da quella cattolica i cosiddetti lontani che stanno attuando un profondo ripensamento del rapporto uomo-donna il femminismo è una istanza diventata vulgata quindi ormai penetrata nel nostro modo di vivere ma dal punto di vista ideologico è un'istanza che è ormai morta nei circoli culturali laici è un'istanza che non ha più niente da dire è un'istanza che mostra il fianco a una serie di critiche è un'istanza che ha ingannato le donne e le donne giustamente se ne stanno accorgendo cioè le promesse contenute nella prospettiva femminista si sono rivelate ingannevoli perché hanno proposto il raggiungimento di una liberazione ancora una volta perché il miraggio è sempre quello eliminare la proprietà privata e introdurre un sistema di gestione dell'economia di tipo marxista per liberare l'uomo dall'oppressione del capitalismo introdurre un sistema mercantile liberale di organizzazione delle risorse secondo la mano invisibile di Adam Smith per liberare l'uomo dalla povertà dall'oscurantismo quindi il modello liberale liberare la donna dall'oppressione del maschio attraverso il rifiuto di che cosa? del ruolo di madre e di moglie ovviamente tutti sanno ma lo precisiamo che poi non è che questo riduca la donna esclusivamente alla prospettiva di essere moglie e madre ci sono donne che non sono letteralmente né mogli né madri e sono donne perfettamente realizzate ma ideologia vuol dire che si deve fare di tutto per sganciare l'identità femminile dal ruolo di moglie e di madre ruolo che in realtà emerge nell'identità femminile anche di coloro che biologicamente non lo sono una religiosa non è biologicamente madre e moglie ma lo è in un altro senso e anche una donna che non ha una famiglia in questo senso esprime una maternità in altro modo quando è contenta quando è realizzata quando è davvero donna quindi questa verità sulla donna che è iscritta nella sua natura è stata ripudiata dalla logica femminista allora dicevo che paradossalmente oggi gli ambienti dove più sopravvive la visione femminista come interpretazione della realtà cioè dal punto di vista teoretico sono gli ambienti cattolici spesso è nelle nostre università è nelle nostre parrocchie che ancora circolano le teologhe del femminismo no vecchie signore perché questa è la realtà che ancora pongono la questione non so del scusate del dio madre oppure di come nella chiesa si può finalmente valorizzare la donna abbiamo avuto duemila anni fa Maria quindi non so quale valorizzazione maggiore si potrebbe proporre no però siamo a discutere di come valorizzare perché perché la visione è ancora una visione nella quale si sposa il nucleo del femminismo che è proporre alla donna di abbracciare il modello maschile cioè l'uomo quando da sempre si sente di aver raggiunto un obiettivo quando magari professionalmente è riuscito bene quando acquista una posizione anche di comando quando gestisce un gruppo quando ha in mano una situazione no quando raggiunge questi obiettivi allora l'idea è noi dobbiamo liberare la donna e permetterle di imitare in tutto e per tutto l'uomo l'uomo per esempio ha dei comportamenti deteriori purtroppo sì nella storia allora anche la donna deve potersi infilare in questi stessi comportamenti deteriori cioè il femminismo ha innescato uno schema di imitazione non di ciò che è bello non di ciò che è virtuoso ma di ciò che invece andrebbe corretto l'uomo si disinteressa della famiglia che quindi viene tenuta in piedi da madri e da mogli che si sacrificano nonostante magari il marito e beh no non è che si deve correggere questo difetto ma anche la donna deve poter fare lo stesso e questo che è accaduto in questi 40 anni e questo spiega le statistiche sui matrimoni sui divorzi sulle separazioni non c'è non c'è poi una chimica molto diversa da analizzare purtroppo è accaduto esattamente ciò che doveva accadere e sta accadendo ciò che doveva accadere date queste premesse allora il libro di Costanza Miriano credo che sia una occasione molto interessante soprattutto per il mondo cattolico per scoprire che non in senso teorico non da parte di chi non vive quello che dice ma da parte di una donna che ha una famiglia che ha un marito che ha dei figli e che tra l'altro ha anche una professione lavora fuori casa si possono riprendere in mano queste categorie così imbarazzanti che stiamo commentando questa sera si può riscoprire che Paolo di Tarso quando dice siate sottomesse ai vostri mariti non stava scherzando e non stava neanche dicendo qualche cosa che fosse limitabile a quel contesto storico del resto bisogna stare anche sempre molto attenti quando si storicizzano i testi sacri perché si rischia di storicizzare tutto allora nel mondo cattolico l'istanza femminista che cosa significa per esempio eh ma perché le donne non possono diventare preti no? un tema che ogni tanto ciclicamente viene fuori no? quando qualche gruppo di teologi non sa come tirare sera dice ma facciamo un documento in cui chiediamo le donne prete il matrimonio per i sacerdoti le solite tre o quattro cose no? di solito dalla Germania arrivano queste cose e questa istanza però cosa ha dietro? ha dietro l'idea che essere sacerdote che cosa significa? significa avere potere la malattia la terribile malattia è quella di pensare che anche l'esercizio di un ministero non sia servizio e anche che il comando non sia servizio no? perché comandare non è un divertimento quando uno ha la responsabilità di prendere le decisioni e si porta a casa un compito non un vantaggio non un beneficio decidere è una responsabilità che alle volte pesa tantissimo allora brevemente mi pare che ci siano alcuni punti che tra i tantissimi possono almeno essere suggeriti nel lavoro di Costanza Miriano che ha questo titolo Sposati e si sottomessa e che spiega anche il successo di questo libro perché questo libro è diventato un caso editoriale di cui parla la stampa parla molto la stampa laica anche la stampa cattolica ne ha parlato anche l'osservatore romano in prima pagina ma molti giornali anche laici sono incuriositi da questo libro e anche questo è un segno dei tempi cioè quando il cattolicesimo è interessante anche dal punto di vista mediatico quando dice qualche cosa di integrale e questo è un dato di fatto alle volte noi diciamo i cattolici sono marginalizzati sono perseguitati verissimo talvolta questo avviene anzi spesso con malizia però è anche vero che quando i cattolici hanno qualcosa di forte da dire i giornali e i mezzi di comunicazione magari per criticare magari per contestare però se ne accorgono ed è quello che è accaduto e sta accadendo al libro di Costanza Miriano è un libro se avrete la possibilità di leggerlo se l'avete già letto vi sarete resi conto che tocca argomenti molto impegnativi con l'arma dell'ironia dell'umorismo sano perché questo è l'altro ingrediente interessante cioè a una dottrina forte non si accompagna una vita triste a una dottrina forte non si accompagna non si addice una vita triste ma una vita piena di allegria ovviamente una vita piena di allegria dove non mancano gli insuccessi le tristezze le sofferenze anche una certa quantità di frustrazione perché quello che noi desideriamo riuscire a fare poi non ce la facciamo questo è normale ma il messaggio interessante anche per le giovani copie o per i fidanzati è che il matrimonio è questa avventura in cui se ci si fida di sposare una dottrina severa ci si diverte molto se invece si sposa la visione relativista del tempo in cui viviamo c'è poco da divertirsi e il gioco finisce molto presto Flannery O'Connor che era una scrittrice nordamericana cattolica in un suo saggio che si intitola Nel territorio del diavolo a un certo punto dice che è impossibile divertire far ridere con la letteratura se in quella letteratura manca la verità ed è vero cioè cos'è che ci fa ridere anche quando vediamo uno spezzone o un film di Totò perché ridiamo perché c'è un ancoraggio a quello che la ragione la verità ci dice che dovrebbe accadere il comico spezza improvvisamente questa aspettativa e allora questo muove a sorriso alla risata ma se non c'è niente di vero non c'è più niente da ridere perché tutto diventa ridicolo e non c'è più da divertirsi nella vita che poi è anche quella nausea quella noia che pervade tante volte la vita dei giovani no? cioè non essendoci più niente di vero non c'è più nemmeno nulla da trasgredire e non si può neanche peccare divertendosi ammesso che questo sia profondamente possibile no? in realtà non lo è ma non ci si diverte più neanche di trasgredire perché che cosa trasgredisci se non c'è più niente di vero di certo eh allora anche la vita matrimoniale dentro una prospettiva forte dove per esempio la donna dice io mi gioco con la mia identità che è quella di essere si guida di questa famiglia ma non nel senso in cui lo è l'uomo ecco questa scommessa rende tutto più divertente e Costanza Miriano lo racconta poi nella sua con uno stile brillante anche attraverso gli aneddoti anche attraverso le lettere che manda nel libro a una serie di colleghi di colleghe o di amiche che sono perfettamente in linea con la società in cui viviamo quindi situazioni familiari o matrimoniali irregolari o incerte o o disastrate perché questo è un libro proprio bello anche per questo si parla di San Paolo si si rivalorizza si valorizza quello che dice San Paolo sul matrimonio e nello stesso tempo si racconta cosa succede nel 2010 nel 2011 cioè la vita di oggi non è un libro di teologia astratta magari anche importante ma che potremmo trovare forse noioso e ancora mi sembra significativo in questo in questo lavoro il fatto che ci si rivolge alle donne ma anche agli uomini è un libro che anche un uomo questa almeno è stata la mia esperienza può leggere con molto gusto perché riscoprire l'identità della donna significa anche riscoprire l'identità dell'uomo e accorgersi di quanto sia in crisi anche l'identità maschile quindi paradossalmente questa pretesa di sottomissione fatta nell'amore comporta anche un richiamo all'ordine dell'uomo perché alle volte può essere molto comodo scomparire dentro la retorica dell'uguaglianza no anche per un marito per un padre dentro la retorica dell'uguaglianza come andiamo insieme decidiamo insieme no è anche una cosa molto democratica no dice bene nei sondaggi cresco di consenso ma è una una fuga da precise responsabilità che comunque ci toccano o ci dovrebbero toccare e anche da una immagine da un immaginario che comunque la donna continua a cercare nell'uomo perché è nella sua natura di cercare nell'uomo alcune virtù che possono essere presenti anche nella donna ma che sono principalmente maschili no quindi la fortezza la perseveranza una certa anche solidità questi sono tutti elementi che fanno della società una società nella quale l'uomo e la donna non siano in conflitto e nello stesso tempo una società nella quale l'uomo e la donna non siano semplicemente prede e cacciatori all'interno della prospettiva consumistica sessuale perché il passaggio dalla famiglia dal matrimonio nel quale c'erano dei ruoli nel quale c'erano tante imperfezioni tanti difetti c'erano i peccati perché non è che stiamo parlando di un mondo ideale nel quale tutto andava bene per carità però il passaggio da una prospettiva in cui si restava saldi nell'idea che comunque ci sono dei ruoli e io sono contento del ruolo che ricopro perché il mio ruolo non è meno importante di quell'altro non è più importante chi comanda non è vero non è più importante chi si vede se noi ragioniamo così ragioniamo secondo la logica del mondo allora dicevo il passaggio da quel modello non è stato come talvolta si sostiene anche da parte di sociologi di area cattolica a un nuovo modello di famiglia in realtà non è subentrato un altro ben definito ma è subentrato uno schema nel quale l'individuo il singolo è l'unico criterio di giudizio e citavo questa sera nell'altra conferenza la svolta giuridica che il nostro paese ha fatto nel 1975 quando è stato abrogato il diritto di famiglia nella sua versione precedente nella sua concezione che precedeva la riforma del 75 che fu una riforma curiosamente sostenuta è votata tanto dal mondo cattolico quanto dal mondo comunista una riforma sostenuta dalla DC e dal PC una riforma nella quale si superò completamente l'idea che i coniugi avessero ruoli diversi e responsabilità diverse perché si disse all'epoca bisognava ottemperare al principio di uguaglianza introdotto dalla Costituzione in realtà il principio di uguaglianza non è minato dal fatto di avere ruoli diversi il portiere e il centravanti hanno ruoli diversi ma nessuno direbbe che il portiere può essere fisicamente eliminato e il centravanti no se lo dice sbaglia allora i ruoli diversi vengono letti sono stati letti come una diversa dignità è stato cambiato il diritto di famiglia e qui si è innescata la deriva divorzista il divorzio è stato introdotto nel 1970 è stato confermato con un referendum nel 74 ma la cultura decisiva che poi ha dato l'innesco a queste leggi alla legge divorzista di Loris Fortuna è stato proprio il fatto di affermare che non c'era più un bene del matrimonio da tutelare un bene della famiglia ma c'erano solo le volontà e gli interessi dei singoli componenti della famiglia e questo è quello che è sotto gli occhi di tutti per cui se io assumo un dipendente in un'azienda con più di 15 lavoratori faccio più fatica a licenziarlo che a lasciare mia moglie dopo il matrimonio il vincolo matrimoniale è nel diritto vigente italiano meno forte che un rapporto di lavoro tra datore di lavoro e dipendente questa è la realtà se io licenzio arrivano i sindacati arrivano tutti coloro che sono preposti a tutelare se io abbandono mia moglie per una ragazza più avvenente ebbè sono scelte di vita bisogna farsene una ragione e si vede che lui riteneva che fosse la cosa giusta da fare questo è quello che ci dice la società il senso comune allora volevo in realtà anche giusto per dare un assaggio anche dello stile molto interessante leggere un paio di almeno due o tre citazioni e poi concludo il mio intervento allora intanto per esempio ci sono diverse pagine che parlano dell'identità maschile e femminile perché la tesi dell'autrice è che i ruoli non nascono nel matrimonio da una convenzione cioè non nascono dal fatto che ci mettiamo d'accordo e dice va bene tu fai questo io faccio quest'altro ovviamente poi una ripartizione dei compiti è più che fisiologica ma qui si sta parlando di ruoli in quel senso fondativo che dicevamo prima allora la tesi dell'autrice è che la ripartizione dei ruoli non è un fatto convenzionale ma è sana questa ripartizione quando è rispettosa delle inclinazioni e della natura dell'uomo e della donna allora per esempio a un certo punto nel libro si legge di sicuro bisogna imparare a ridurre le aspettative e se si è sposate a fidarsi della persona che si è accanto del suo stile nel fare le cose anche se sia chiaro il mio stile nel bruciare gli sformati non ce lo ha nessuno in casa nostra a delegare a rinunciare al controllo totale a scegliere facendo a meno di qualche cosa la donna dice Costanza Miriano non funziona quando appoggia la sua sicurezza fuori di sé nella riuscita di quello che fa negli uomini nel lavoro nella bellezza e non nell'unico che quella sicurezza la può dare la donna si perde quando si dimentica chi è la donna è principalmente sposa e madre deve offrire spazio e protezione non solo negli stretti confini della famiglia noi siamo capaci di farci compagni e madri di tutte le persone che entrano nel nostro orizzonte e ancora più avanti dice come dice Edith Stein l'anima della donna deve essere ampia cioè aperta a tutti calda e luminosa per aiutare a crescere anche le piantine che stentano piena di pace perché quando c'è il temporale i germogli possono non farcela riservata perché ci sono dei momenti in cui le intrusioni dall'esterno sono pericolose come una tromba d'aria vuota di sé per fare spazio perché ci vuole terreno fertile per far crescere qualcosa padrona di sé perché deve essere pronta a servire e non schiava di se stessa e dei suoi umori come di una grandinata che in ogni momento incombe questa è una pagina scritta molto bene anche molto bella che riecheggia anche quella pagina mi pare del vecchio testamento senza altro in cui si descrive il profilo della donna virtuosa quando diceva oggi pomeriggio Costanza Miriano che l'anticipo qualcosa che deve dire lei così non lo può più dire che quando si è sposata non ha voluto lei il brano di San Paolo in cui si dice donne state sottomesse e soltanto dopo ha come dire rivalutato ho capito nel mio caso invece abbiamo voluto questo brano quando ci siamo sposati e soltanto dopo mia moglie no sto scherzando ovviamente nel nostro caso dicevo noi abbiamo voluto insieme come seconda lettura del giorno del nostro matrimonio questa lettera di San Paolo suscitando le ire soprattutto di mia suocera che è arrabbiata da allora e abbiamo però voluto io ho voluto che la prima lettura invece fosse proprio quel brano bellissimo del Vecchio Testamento dove si descrive la donna virtuosa perché questo questo pandant perché io sono convintissimo che la dignità della donna di cui tutti si riempiono la bocca in questa triste fase della nostra storia sta o cade con la capacità dell'uomo di essere uomo e con la capacità di riconoscere nella donna queste cose fantastiche che l'uomo non potrà mai esprimere esattamente come la donna è in grado di farlo ma d'altra parte la donna chiede all'uomo di essere qualche cosa che lei nonostante le donne soldato le donne paracadutista le donne cararmato qualunque altra diciamo cosa che si possa effettivamente fare perché tutto può accadere no? tutto si può fare ma in un modo che resterà sempre inevitabilmente femminile e ancora e concludo per non portare via altro tempo mi è piaciuto molto anche questo passaggio in cui c'è sempre questo riferimento al problema dell'identità dice quanto ai padri e sono cose anche un po' scherzose ma è giusto anche sorridere quanto ai padri al parco vorrei fare un disegno di legge che impedisca loro l'accesso con pupi al di sotto dell'anno di vita proteggiamo gli uomini dalle insidie di un biberon troppo caldo troppo freddo verissimo da un pannolino da cambiare sulla panchina da un ciuccio caduto deve essere una legge della fisica sempre di punta e allegramente cosparso di ghiaino che il papà dovrà amorevolmente succhiare se uomini e donne sono diversi e neanche lontanamente parenti e per un uomo l'accudimento di un cucciolo da latte è un'impresa che richiede uno sforzo innaturale mentre a noi pesa sì ma ci piace anche perché costringerlo in nome di una parità che non c'è e non ci potrà mai essere perché gli uomini non hanno il seno e non vale rispondere perché starebbero sempre a toccarselo perché non partoriscono non vale rispondere perché l'umanità si estinguerebbe fa troppo male la famiglia è una squadra in cui ognuno deve giocare il proprio ruolo che è quello che gli viene meglio il segreto per vivere in armonia è capire i talenti e mettere tutti in condizione di spenderli grazie adesso hai detto tutto quindi non so intanto comincerei ricordando che domani è il Beato Poitiva no? è giusto domani sì no lo so perché io invece lo so perché il 22 ottobre è il nostro anniversario di fidanzamento e quando doveva decidere la data e ho visto l'agenzia che sarebbe stato appunto il 22 ottobre ho subito chiamato mio marito e lui ho detto ma quanto hai pagato dove sei arrivata che hai corrotto perché questa data appunto il nostro anniversario per me è significativo perché Voitiva è stato credo il primo insomma tra i papi moderni almeno forse anche il primo in assoluto a dire delle cose nuove sulla coppia lui anche da vescovo lavorava molto con le coppie di sposati e anche nei documenti ufficiali anche nella mulieris dignitatem mi sembra è stato il primo a dire che la via matrimoniale prima si diceva che nei documenti ufficiali che non fosse un ostacolo alla santificazione lui invece è stato il primo a dire che è una via di santificazione e ha detto delle cose bellissime per esempio ha detto non dite al vostro compagno ti amo ma partecipo con te dell'amore di Dio che è una cosa completamente diversa perché si mette la roccia del rapporto insomma su basi dopo non si può litigare per il tubetto del dentifricio insomma si mettono le basi su una roccia davvero solida e io ho riflettuto tanto su quei testi alcuni non tutti perché ha scritto tanto sia la famiglia sia quella di catechesi uomo e donna lo creò su appunto la teologia del corpo l'amore matrimoniale l'amore sponsale però insomma alcuni ne ho letti e ci ho riflettuto perché mi sono trovata a riflettere all'inizio nei primi anni del matrimonio perché anch'io mi sono sposata credo come tutti con aspettative fantasmagoriche sul matrimonio che poi è la cultura corrente che ce le propone salvo poi invitarti a seguire il tuo cuore appena le cose magari non sono come le aspettavi e quindi invece quando queste aspettative in qualche modo venivano deluse ma poi mi sono state restituite come dice il Vangelo centuplicate quando ho cominciato a capire come funzionava e appunto ho riflettuto tanto su questo cioè che il nostro marito nostra moglie sono non sono né un compagno né qualcosa nonostante la quale ci si può santificare ma esattamente la via per santificarci cioè solo è proprio la persona che hai accanto perché come diceva mi sembra Don Giussani ci può essere il momento del dubbio anzi credo che sia quasi obbligatorio ho sbagliato ho sbagliato tutto ho sbagliato persona però come diceva Don Giussani tu puoi anche sbagliare ma Dio non si sbaglia e quindi di sicuro invece quella quella persona che in certi momenti ti appare magari anche così diversa da te è esattamente la via giusta e con gli anni poi mi sono appunto accorta che magari proprio le cose che facevo fatica sulle quali c'erano più differenze poi e che sicuramente anche lui faceva fatica con me erano esattamente i miei difetti perché alla fine quello che ci dà fastidio negli altri è quello che ci denuncia credo i nostri difetti le nostre mancanze altrimenti non ci toccano e ho capito che era era lì che dovevo cominciare a lavorare infatti mio padre spirituale ogni volta che andavo a lamentarmi mi dava sempre la colpa a me non so se lo fanno tutti i preti era sempre colpa mia dico ma come qualche volta una giusta no niente e così insomma invece ovviamente poi si impara si impara insomma ci si viene si impara a scartavetrarsi a vicenda e così è nato insomma prima di tutto nella mia insomma prima di tutto ho cominciato io a scartavetrarmi e penso anche anche mio marito anche se è di pochissime parole quindi non lo saprò mai e poi ho cominciato anche a portare questa esperienza alle amiche alle colleghe e così che mi sembrava perché mi sembra che sul matrimonio ci sono veramente tante idee confuse e sbagliate in giro anche forse a volte con la vostra complicità no come ha detto ma come ha detto il professore sono i primi a scandalizzarsi tante volte i sacerdoti quando sentono parlare insomma di sottomissione di martirio di di dedizione totale e niente così ho cominciato anche a capire che quella nostalgia che poi rimane sempre anche nel rapporto alla fine è la nostalgia di di un amore proprio perfetto che forse solo in cielo conosceremo no e per il resto è un cammino quotidiano e questa cosa della della sottomissione tanto volevo dire che poi la lettera di San Paolo prosegue per i mariti come Cristo ama la chiesa ma vediamo che fine ha fatto Cristo insomma non è che è andata molto meglio a lui quindi anche ai mariti dice di essere pronti a morire per le loro mogli insomma credo che il compito sia di accettazione di donazione totale sia reciproco io penso che alla donna sia per prima il compito di accogliere e accettare e permettere anche a tutto tutto il resto della famiglia di di essere se stesso perché come si vede quando con i bambini piccoli prima il bambino deve sentirsi pienamente accettato e accudito e poi può esprimere la sua identità la sua personalità e questo lavoro di maternità la donna secondo me lo deve fare sempre anche quelle non madri biologicamente un lavoro di di accoglienza e di accettazione all'interno della famiglia infatti l'ultima volta a Milano all'ultimo incontro abbiamo ufficialmente fondato le truppe di Good Brando e il Montanaro una storia che ho letto avevo letto da piccola e poi ho riproposto alle figlie femmine perché io non sono femminista e quindi l'ho letta solo alle femmine perché secondo me è una cosa che riguarda loro e non i loro fratelli c'è questo Good Brando il Montanaro che appunto vive in montagna e va in città a vendere una delle sue due mucche e parte tutto contento va al mercato però non riesce a venderla quindi torna si avvia per tornare a casa in montagna e lungo la strada tutto un po' sconsolato perché non è riuscito lungo la strada incontra un signore con un cavallo che gli offre di barattarlo e lui accetta nonostante forse un po' ci perde però accetta poi incontra uno con un maiale e di nuovo accetta il baratto poi incontra un signore con una pecora e anche lì accetta il cambio chissà forse la lana mi può servire poi incontra uno con una capra poi colloca con il gallo insomma alla fine accetta sempre si ritrova con un gallo dalla mucca che aveva all'inizio poi il viaggio si è fatto lungo ha perso tempo ha tanta fame per cui un signore gli offre di comprare il gallo lui lo vende con il ricavato va a cena esce dalla trattoria senza più niente e prima di rientrare a casa si ferma dal vicino allora com'è andata con la mucca insomma racconta tutta la storia praticamente torna a casa a mani vuote uh non fossi in te non ci andrei figurati tua moglie quante te ne dice per carità vedrai no no guarda mia moglie è così mi vuole così bene a prescindere che qualsiasi cosa io faccia per lei è perfetta no guarda guarda si ti vorrà bene io lo capisco però fino a questo punto cioè proprio no scommettiamo un sacco di monete d'oro che ti sgrida va bene si apposta il vicino dietro la porta lui torna a casa allora com'è andata eh insomma ho scambiato non sono riuscita a venderla ho scambiato la mucca con un cavallo ah bene vallo a mettere nella stalla no aspetta poi l'ho scambiata con un maiale benissimo bene faremo i prosciutti bene bene vallo a mettere via no ti devo dire che l'ho scambiato con una pecora uh ancora meglio faremo con la lana i maglioni no aspetta l'ho scambiato con una capra benissimo ogni volta ogni animale la moglie è sempre più contenta anche con l'oca faremo i piumini col gallo che bello ci sveglierà che meraviglia no poi l'ho venduto uh bene giusto ci facevano comodo un po' di soldi no veramente sono andato a mangiare ah bravissimo che hai mangiato bene pensa se fossi tornato stanco affamato magari saresti morto che bello che sei tornato vivo e lo abbraccia per cui a quel punto il vicino deve consegnare il suo sacco di monete d'oro e con le amiche adesso abbiamo fondato appunto queste divisioni delle mogli di Good Brand perché non perché i nostri mariti siano così insomma poco saggi ma perché credo che un po' il difetto che abbiamo un po' tutte soprattutto forse non le mogli alle prime però insomma quando magari gli anni di matrimonio aumentano abbiamo questa cosa pedagogica educativa che vogliamo migliorare il marito lo diciamo sempre per il suo bene però insomma siamo un po' petulanti io perlomeno e anche le mie amiche delle volte mi chiamano non ti rendi conto che hai fatto oggi dimmi ascolta sto sfogo di solito sono piccole cose come quelle di cui mi lamento io cioè sono insomma piccolezze confronto alle cose che contano la serietà l'onestà eccetera e quindi insomma questi sfoghi poi alla fine di solito alle amiche propongo di arruolarsi ma davvero ma anche se tira su la serranda quando io dormo sì dai anche se tira su la serranda ma anche se fa rumore sì anche se fa rumore anche se guarda la partita sì la partita poi diciamo uno dei capisaldi della vita matrimoniale serena è intoccabile e così niente insomma ci stiamo che poi tante amiche poi quando ci risentiamo mi dicono che questa operazione good brand poi in realtà è più faticosa di quanto sembra perché non si tratta ovviamente solo di un'adesione a parole ma poi di una approvazione vera leale non si tratta di essere furbe ma proprio di cioè non di farlo così per astuzia o di fare una strategia ma proprio di accettare davvero lealmente con col cuore aperto e questa operazione intanto facciamo i bollettini di aggiornamento da un lato è più difficile di quanto sembra perché frenare la lingua è difficile e soprattutto la testa perché poi la testa segue la lingua non sempre la precede e a volte quando si si prendono le parole anche i pensieri poi si si addomesticano e anche il cuore segue e dall'altro invece produce dei frutti insperati perché tanti appunto mi hanno detto che i mariti poi notano questo impegno questa questa volontà e a volte dico ma che succede mi nascondi qualcosa perché non ti lamenti perché non sei arrabbiata invece quando poi insomma si vede che è una una vera volontà di avere un pregiudizio positivo nei confronti dell'altra persona invece di stare sempre col fucile puntato a aspettare il difetto veramente si si innesca un circolo positivo dopo la presentazione dagli amici del timone di Ferrara padre Massimiliano mi ha scritto mi ha detto che un padre è andato al catechismo il giorno dopo l'incontro con noi e ha detto ma che gli ha detto quella a mia moglie che sono tornato mi ha detto bravo che hai comprato il pane grazie dice lo faccio da 15 anni non me l'aveva mai detto bravo che hai preso il bambino a scuola grazie grazie e dice che insomma il marito era preoccupato e però invece funziona ecco io posso testimoniare la lingua ogni tanto fa male però ogni tanto parte ovviamente però ci viene restituito poi in cambio questo questo amore del quale poi abbiamo nostalgia perché prima a tavola e anche l'altro incontro parlavamo del fatto che uomini e donne credono diversamente hanno un modo diverso anche di rapportarsi col divino e pensavo anche che forse la donna nella sua maggiore fragilità anche interiore è più dell'uomo figura del bisogno umano di Dio del bisogno che il genere umano non solo l'uomo esprime più dell'uomo il bisogno la nostalgia di Dio e quindi penso che mai nessun amore umano potrà poi alla fine saziare questa questa sete penso che per questo il matrimonio cristiano secondo me è l'unico che ha garanzie di è garantito no? come non c'ha la garanzia che scade perché si fonda su su un'altra roccia insomma che appunto è perché a Milano dopo questa proposta questa fondazione delle truppe una una donna ha detto non so che magari ha una situazione difficile alle spalle è intervenuta ha detto ma devo fare la moglie di Good Brando anche quando proprio anche davanti ai figli i figli aspettano questo Good Brando non porta niente a casa non è mai presente in quei casi io non so che rispondere perché chiaramente in quel caso alla donna è richiesto o in certi casi magari all'uomo un un eroismo un martirio cioè di accettare di rimanere fedele anche a a un uomo magari che non lo è più o che comunque manca in altri modi però penso che se il fondamento cioè è Dio se il vero sposo è Lui allora ci si può anche provare quindi in questo caso dico in questo senso dico che il matrimonio cristiano è garantito perché è Lui che fa da garante anche per le debolezze le mancanze le cadute le fragilità dell'altro ecco basta ovviamente perché ogni tanto mi dicono il titolo è Sì Sottomessa ma invece dico no no proprio Sottomessa sì ma intendevi no no intendevo proprio quello quindi non è proprio provocatorio insomma no sul diciamo via internet mi sono arrivate critiche da siti siti di femministe però tipo non è possibile che nel 2011 si pubblichino cose così ancora però in realtà si capiva mi sembrava insomma dal tenore che non avessero letto il libro perché si fermavano alla parola sottomissione perché poi invece come dicevamo prima le recensioni sono quelle dell'osservatore romano il foglio l'avvenire anche studi cattolici sono state tutte molto positive però tutte diciamo della nostra parte mentre l'unico giornale che ha letto il libro pur non pensandola come noi è il fatto quotidiano che però ha scritto che il titolo fa capponare la pelle che io ho lo zelo di una testimone di Geova che sembra un sacerdote degli anni 50 che però poi nel merito alla fine dice la giornalista anche noi che abbiamo combattuto per l'aborto e il divorzio se ci chiedono qual è il giorno più felice della nostra vita è quando abbiamo magari quando è nato il nostro figlio oppure anche se siamo a favore del divorzio e alla fine cerchiamo sempre l'amore eterno quindi nel merito poi non è che proprio contestasse nel merito le cose scritte a parte il titolo ecco che poi si è stato un po' me l'ha consigliato un collega più furbo di me perché ha capito che avrebbe attirato un po' l'attenzione questo si al lavoro niente proprio come se fossi un foglio di carta trasparente proprio nessuno ha detto niente come soprattutto insomma anche quando sono andata magari in televisione invitata così e magari la zia mi ha chiamato la cugina nel fornaio però al lavoro niente fanno finta di niente spero che siano un po' di punti paradiso che dice no e devo dire che da ho ricevuto diverse commenti di questo tenore e in realtà per me soprattutto è bellissimo sapere che ci sono tante persone invece che non appaiono magari sui giornali non in televisione e che credono veramente nel matrimonio ci sono tante mamme anche di 5 6 7 anche 11 figli quindi io sono una principiante che dicono finalmente qualcuno che ci dà voce e sono contenta perché appunto siccome la cultura prevalente è quella fatta apposta come diceva Mario Palmaro prima fatta apposta per mettere in crisi il matrimonio per creare delle aspettative fantasmagoriche sul matrimonio e per renderlo poi discutibile al primo intoppo e vedere che invece ci sono tante persone che mi hanno scritto tramite facebook il blog la posta anche che mi hanno magari mandato libri di esperienze simili racconti lettere per me è proprio una gioia come cattolica insomma sapere che siamo invece tanti insomma un popolo non rumoroso ma numeroso all'inizio questo è l'unico tema che per me che io invece di solito ho queste certezze granitiche su questo tema insomma per me è fonte di continua revisione perché il lavoro per me è una necessità però penso anche che in tanti campi le donne possano dare un buon contributo solo che le regole del lavoro sono maschili quindi prevedono intanto un orario appunto di solito fisso e che non tiene conto degli imprevisti delle esigenze dei bambini e per esempio un'altra regola maschile è che se stai fuori dieci anni per dire cioè poi è inutile che riprovi proprio neanche a pulire i vetri lì al lavoro cioè non esisti più perché sei tagliato fuori quindi se decidi queste sono tutte regole maschili perché secondo me che negli anni in cui i bambini sono piccoli e forse anche dopo perché poi anche l'adolescenza ha bisogno di presenza sarebbe bene che la madre fosse cioè a Roma con due ore di spostamento al giorno per andare ovunque praticamente un'ora un'ora e otto ore di presenza cioè se una mamma sta fuori di casa dieci ore al giorno non si può fare come si dice a Roma e quindi io per esempio mi barca meno appunto non avendo un obbligo proprio preciso di rispetto dell'orario appunto ho tutte le borse aromatizzate al salame e vado torno scappo faccio mentre incastro le interviste mentre porto un figlio a calcio insomma è una fatica tremenda e sì secondo me infatti più che combattere per l'equaterosa che per me sarebbero una iattura cioè se mi facessero presidente della RAI mi suiciderei proprio invece perché ci dovrei stare 24 ore al giorno invece più che combattere per l'equaterosa dovremmo combattere perché il mondo del lavoro avesse delle regole più a misura di mamma perché ti dicono che tu puoi anche essere una lavoratrice mamma però una mamma lavoratrice non è previsto proprio io una volta insomma con quattro bambini capita una stava male mentre i nonni erano in vacanza come ho scritto anche la tata aveva lo stesso virus della bambina mio marito era fuori in trasferta ho preso un giorno e sono dovuta andare a fare una dichiarazione al comune che mi prendevo un giorno di malattia praticamente mi hanno fatto capire ma se prenda la malattia lei dice che è malata dico no vabbè non si fa non si dicono le bugie come sapevo dai tempi del catechismo però non è prevista è una cosa complicatissima e quindi bisognerebbe secondo me più che per l'equaterosa che riguardano un'esigua minoranza di donne e che personalmente a me non interessano perché tra l'altro il mondo del lavoro anche a livelli del potere della gestione del potere delle fila delle aziende ha delle logiche che secondo me sono estrane alle donne comandare in modo non servire come Cristo ma comandare come si comanda nel mondo secondo me per le donne è più difficile quindi non è quello il punto della battaglia per il mondo del lavoro ma è permettere per esempio una maggiore flessibilità in ingresso e in uscita part time possibilità di assentarsi e di ritrovare la scrivania per esempio però queste cose alla fine non interessano a nessuno perché le mamme non interessano a nessuno che la mamma poi sia presente a casa che faccia il suo lavoro di educatrice non serve anzi meglio la scuola a tempo pieno così io sono proprio una strenua sostentrice della diversità appunto e penso che proprio il potere inteso proprio come potere nel mondo secondo me non è nelle nostre corde io vedo che le donne che stanno al potere quando ci arrivano diventano molto aggressive perché cercano di ripetere cioè ci vorrebbe una donna talmente coraggiosa che arrivata al posto di potere rifiutasse gli schemi maschili e lo facesse in modo appunto accogliente valorizzando le differenze facendo lavorare tutti anche aspettando gli ultimi mi sembra che non è di questo mondo la logica secondo me non è possibile poi non lo so se mi sente la marcegaglia sa rabbia però secondo me no non lo so se tu una domanda interessante certamente anche questo tema del mondo salvato dalle donne in questo senso è un tema che abbiamo sentito ripetere spesso ed è anche un argomento demagogico che gli uomini usano molto volentieri cioè in genere più gli uomini non vogliono lasciare spazio alle donne più inventano questa formuletta dicono sarebbe bello però che potessero comandare di più perché il mondo non ci sarebbe più la guerra tutte queste cose in realtà dobbiamo stare un po' ai fatti allora per esempio negli ultimi decenni ci sono state delle figure femminili che hanno avuto dei ruoli molto importanti di comando me ne viene in mente qualcuna che sono quelle forse che si sono imposte di più una ad esempio che ricordo spesso è Margaret Thatcher della Thatcher però cosa si dice e cosa si diceva che fosse un uomo cioè per qualificarla e per farle un complimento si diceva ah caspita certo che gli inglesi adesso hanno la Thatcher sia chi la contestava e sia chi ne parlava bene perché c'erano motivi ovviamente sia per apprezzarla ma anche per criticarla usavano queste categorie oppure adesso abbiamo in Germania Angela Merkel e anche lì uno si domanda ma in che cosa consiste l'elemento femminile di questa interpretazione del ruolo sotto molti profili del ruolo di leader in questo caso della Germania si rimane un po' perplessi quindi effettivamente credo che Costanza Miriano abbia ragione quando dice che c'è forse anche una idiosincrasia tra alcuni ruoli particolarmente mondani di responsabilità e l'identità femminile che non significa che le donne non possano anche adeguatamente comandare devo dire però che l'altra esperienza più nella mia esperienza lavorativa diciamo che mi capita di constatare che comunque ma quello che dico può valere proprio per quello che è una piccola esperienza statisticamente forse poco rilevante è che però noto una tendenza alla trasformazione dell'atteggiamento femminile proprio nel contesto lavorativo cioè voglio dire che quelle che sono talvolta le virtù tipicamente femminili della donna che io ammiro nella donna e che la donna esprime dicevo anche prima in misura che l'uomo non è capace di eguagliare con uno stile che la donna non è capace di eguagliare non so penso al rapporto madre figlio la comprensione di una madre verso il figlio o la comprensione di una moglie verso il marito cioè ci sono davvero dei tanti modi di essere che tra l'altro ritornano nei secoli cioè l'umanità cambia i costumi cambiano ma questi tratti ritornano però poi devo dire che sul lavoro alle volte vedo addirittura uno scatenamento capovolto come se queste virtù poste sotto lo stress dell'ambiente di lavoro mondano si capovolgessero ad esempio prima si toccava il tema della conciliazione famiglia lavoro che è un tema di cui mi sto occupando nella mia attività perché in Italia sta arrivando da alcuni anni l'idea di favorire la conciliazione famiglia lavoro come schema che supera la visione femminista classica cioè noi abbiamo una visione femminista che è quella che l'Unione Europea ha sposato secondo cui un paese è tanto più sviluppato quanto più le donne vanno a lavorare c'è un obiettivo che Lisbona ci ha dato che dobbiamo portare il 60% delle donne a lavorare fuori casa in Italia siamo molto al di sotto di questa percentuale l'obiettivo che bisogna quindi quasi come se fosse una specie di cooptazione arrivare a questi numeri cosa c'è dietro lì c'è dietro proprio una ideologia cioè uno schema non una valorizzazione della volontà della donna ma uno schema che alcuni paesi come i paesi scandinavi hanno attuato da molti anni allora sul lavoro che cosa mi capita di constatare per esempio che spesso non sempre ma spesso quali sono i lavoratori che sono più resti a essere comprensivi nei confronti della madre lavoratrice le donne questo è un problema che mi è esploso davanti nella prassi che mi ha meravigliato tantissimo ma oggi almeno nella mia esperienza chi viene in direzione a dire eh ma però quella lì con la storia che ha i figli esce dieci minuti prima oppure prende i permessi le donne ovviamente questo ripeto è un discorso molto vago molto generico che non può riguardare tutti però è una cosa che ci deve fare riflettere quante volte sentiamo parlare della solidarietà femminile e io la vorrei incontrare no? dove si trova dove si può vivere questo fatto allora a mio parere questo non può dipendere da una sorta di malvagità interiore della donna ma dipende credo dal fatto che lo schema il mondo del lavoro che effettivamente è impostato con delle esigenze piuttosto spietate che entro certi limiti non possiamo eliminare perché purtroppo mondo del lavoro vuol dire quadratura di un bilancio a fine anno e da questo discende tutto il resto no? Siccome questa è la situazione purtroppo la donna diventa anche vittima di un meccanismo che non riesce a digerire quindi la conciliazione famiglia-lavoro a mio parere è una scommessa che si può e si deve tentare ma riconoscendo che ci sono dei limiti insuperabili riconoscendo che nella vita ogni scelta equivale a rinuncia e viceversa quindi al primato del mio rapporto con i figli cioè se veramente per me quella è una priorità devo sapere che questa cosa questa scelta comporta dire di no a qualcos'altro o dire di no almeno a qualcos'altro quindi percorsi di carriera è chiaro che uno dice ma non so le quote rosa ci sono meno donne nei posti però questo è legato proprio anche a questa vocazione perché se uno vuole fare diciamo la manager lo può fare oggi ci sono lo può fare può riuscire però non è che si può meravigliare se ha 45 anni è al top dal punto di vista del suo percorso di carriera e magari io non glielo auguro ma magari la situazione familiare non è come la vorrebbe perché noi abbiamo un limite che è il tempo che è la vita la forza le energie che abbiamo aggiungerei paradossalmente che qui casomai bisognerebbe questo almeno io ne sono molto convinto anche cercare di ritagliare qualche spazio di più per i padri cioè qui qui il paradosso è che se noi siamo convinti che la crisi che stiamo attraversando è una crisi di valori educativa allora qui la produzione la produttività lavorare di più lavorare tutti ma c'è la dimensione educativa se qui i genitori insieme in modo diverso non hanno un po' più di tempo per stare con i propri figli e continuiamo a illuderci che i figli si tirano su con le strutture con il tempo pieno con la delega ad altre figure secondo me la vera crisi economica deve ancora arrivare e sarà questa allora primo lì l'argomento è stato naturale io in realtà questo libro lo scrivevo da 20 anni nel senso che ho quando si è presentata l'occasione di scriverlo ho tirato fuori i diari e gli appunti perché io giro sempre come dice il mio collega di università prendo gli appunti anche quando sei tu che parli perché dico una volta che mi viene un'idea me la scrivo così se no me la perdo e quindi ho tirato fuori i diari veramente dal corso vocazionale ad Assisi che feci nell'88 tipo a 18 anni e ho messo insieme le cose quindi queste erano proprio si è scritto veramente da solo in tre mesi cioè in tre notti in tre mesi di notti perché di giorno faccio la mamma e quindi si è scritto proprio da solo perché erano cose cioè l'argomento a me è sembrato il più naturale perché sono le uniche cose che so anzi infatti mentre scrivevo dicevo veramente penso che cioè ho provato sto provando a scrivere un secondo però non so neanche se vedrà mai la luce perché tutto quello che sapevo l'ho messo in questo libro o non mi sono tenuta all'argomento di riserva e il titolo è in realtà il libro è nato da una piccola disavventura lavorativa comunque sulla quale sorvoliamo però insomma mi sono trovata con un po' di tempo libero e ho scritto una mail a Camillo Langone del foglio perché aveva scritto una preghiera che è la sua rubrica quotidiana sull'inferno un'edizione illustrata dell'inferno e diceva l'inferno deve tornare a fare la funzione che ha sempre svolto nei secoli cioè far paura ai bambini siccome io con un grande diciamo scandalo delle catechiste io dico ai figli che l'inferno esiste è una cosa che proprio non si può dire perché secondo me il timore cioè l'amore di Dio viene il primo gradino è sempre il timore e comunque io insomma gliene parlo però mi sento un po' fuori insomma fuori contesto sempre e gli avevo scritto questa mail per dire che ero contenta di non essere l'unica pazza che almeno eravamo in due non lo so forse anche di più e quindi così abbiamo cominciato insomma un piccolo scambio e così ma che fai dove lavori ma principalmente ho detto sto al telefono con un'amica per convincerla a sposarsi e allora lui mi ha detto ma perché non scrivi un libro e ho detto ma no perché i miei consigli sul tema sono proprio completamente fuori moda perché per me c'ha sempre ragione il fidanzato si devono comunque sposare contro ogni dubbio contro ogni devono sbrigarsi a fare figli insomma questi consigli non so se sono molto commerciabili e poi invece niente ha detto prova perché non provi così e quindi è venuto fuori il libro e il titolo e siccome appunto nel capitolo che il primo che gli ho mandato c'era questa cosa della sottomissione lui mi ha suggerito di metterla nel titolo perché gli sembrava insomma la cosa più significativa e invece a me sembrava normale insomma uno dei miei normali consigli appunto che rilascio sempre le amiche cioè la moglie di Goodbrand insomma che sia chiaro che a volte cioè non è che mio marito è come Goodbrand è l'atteggiamento ovviamente perché cioè sono io in realtà spesso che faccio quei disastri di quel genere però dicevo è l'atteggiamento insomma cui mi riferivo infatti io diciamo il mio sforzo è stato quando appunto Langone mi suggerì di scrivere il libro avevo steso diciamo uno scheletro con i contenuti che era una barba tremenda perché avevo proprio messo per punti una cosa proprio illegibile per cui il mio vero sforzo è stato di cercare di rendere divertente queste cose perché io veramente mi diverto e sono contenta e penso che adesso la sfida per noi cattolici sia di trovare un linguaggio un modo per comunicare proprio questo cioè che non sono loro i furbi quelli che fanno che si autodeterminano che fanno come vogliono che credono di essere così in gamba e poi in realtà non stanno per niente bene io non vedo tante persone appunto autodeterminate e felici vedo intorno a me parecchi disastri e parecchia infelicità e quindi credo che lo sforzo per noi cattolici adesso sia quello di farci inseguire con la nostra bellezza bellezza intendo appunto ho voluto mettere a volte anche forzatamente dentro al libro alcuni riferimenti magari a cose frivole le borse gli smalti cose che alla fine non è che mi interessano così tanto come come ho scritto anche perché insomma con i bambini piccoli tempo poco delle volte mi vesto con quello che cade dall'anta dell'armadio quando l'apro però l'ho fatto proprio come sforzo ecco semmai quello non i contenuti quelli l'ho presi dai diari con grande facilità ma casomai lo sforzo è stato di rendere di far sembrare come in realtà è nel senso che io sono veramente contenta però di accentuare questi aspetti divertenti accattivanti perché penso che sia adesso la nostra chiamata appunto dei cattolici adesso che ormai siamo rimasti veramente pochi secondo me la sfida diciamo da un punto di vista culturale cioè di essere maggioritari è persa allora ora che siamo pochi bisogna far capire agli altri che da questa parte si sta meglio insomma e per la suocera non so no però a parte gli scherzi penso che in questa epoca di in cui siamo fatichiamo un po' a diventare adulti tutti a staccarci a volte cioè ho sentito tante volte presente il problema della famiglia d'origine che che interferisce un po' non so se è il vostro però insomma ci sarebbe da riflettere anche su questo insomma sulla necessità del ecco di diventare adulti e di stare ognuno al suo posto io come ho scritto anche sul blog ho tradito tutte le cioè ho contraddetto tutte le regole della seduzione della perché come ho visto mio marito ha detto lo voglio per cui l'ho invitato a uscire lui mi ha detto no c'è un raffreddore io non ho fatto l'offesa il giorno dopo mi ha chiamato e sono uscita subito al primo appuntamento gli ho detto che dovevo c'è una macchina scassatissima la dovevo comprare e dico voglio una nella quale entri la carrozzina nel portabagagli quindi le cose che non si dicono mai al primo appuntamento anzi fra l'altro mi ha scritto una una ragazza dicendo che lei adottava queste tecniche moderne di non parlare mai di matrimonio di fare sempre finta di niente di fare la superiore e la distaccata dopo un mese che usciva con un ragazzo questo ha detto vabbè ho capito che tu non vuoi fare sul serio allora basta e lei no no aspetta aspetta era una tattica scherzavo io non lo so penso per scegliere non lo so penso che non si debba seguire troppo il cuore l'istinto che è un'altra cosa che va insomma quelle che si imparano dai la ciclit i film i film i film rosa romantici cioè io penso che la cosa più importante ci sono dei valori che per te sono cioè dei valori degli elementi che per te sono imprescindibili per me era la bontà l'onestà l'affidabilità la solidità e poi altre cose sulle quali si può passare sopra cioè il mio è di Roma purtroppo però ci sono passata sopra no ci sono delle cose meno importanti è ovvio che quello proprio perfetto che ce l'ha tutte non esiste però io fra l'altro la cosa è nata perché una sera mi chiamò un collega che era caduto che un po' mi corteggiava e era caduto con la Vespa e mi ha detto sono all'ospedale il medico dice che mi lascia solo se passi la notte con me e dico no senti questa come scusa per farmi venire a dormire a casa tua mi sembra proprio dico questa proprio non c'è casco no no è vero sono andata all'ospedale davvero era caduto con la moto e il medico ha detto bisogna vigilare che non abbia insomma peggioramenti durante la notte nausea e cose per cui se lei lo accompagna a casa per cui ho passato la notte su una sediolina vicino a questo che dormiva e poi quando me ne sono andata ha detto lui mi ha detto che ero stata un angelo che ero stata insomma molto disponibile e mi ha detto c'è solo un'altra persona che conosco così buona come te ho detto dimmi subito chi è e poi l'ho sposato ecco la sono proprio andata a cercare quindi per me era questo la bontà ho avuto diversi riscontri che tantissimi uomini l'hanno letto anzi su facebook per esempio ho più amici uomini che donne però io non pensavo proprio io l'avevo scritto proprio veramente per le amiche per le donne perché perché penso che siamo è da noi che parte insomma il funzionamento cioè che non significa che facciamo tutto il lavoro assolutamente e neanche che ne facciamo più dell'uomo è semplicemente un fatto di tempo cioè a noi sta precedere il compito di precedere l'uomo in questo che poi magari noi diamo il là e lui fa tutto il resto e magari anche più di noi però io l'avevo scritto proprio pensando alle donne perché soprattutto penso che le donne di oggi hanno più degli uomini perso la loro identità cioè l'uomo diciamo bene o male il modello base è rimasto sempre senza option però no davvero culturalmente siamo in un periodo negli ultimi 50 anni la condizione della donna è cambiata molto più di quella dell'uomo proprio si è rivoluzionata completamente e la donna più dell'uomo è alla ricerca della sua identità perché dobbiamo mettere insieme più cose basta vedere la borsa di una donna e le tasche di un uomo il mio c'ha il portafoglio e le chiavi io c'ho i cerotti la lacca lo smalto le tre agende il diario delle medie il messale il cellulare insomma vabbè come tutte le nostre borse perché siamo più complesse più e poi ci sono appunto i figli eventualmente il lavoro la cura della casa magari le amiche la vita spirituale insomma dobbiamo tenere insieme più cose e con il lavoro li dobbiamo ricalibrare con più fatica perché c'è questo dato biologico che nonostante le femministe non si potrà cambiare cioè che siamo noi che generiamo i figli e che almeno nei primi tempi ce ne facciamo carico insomma quindi io per esempio sono contro i congedi parentali che mi sembrano una violenza terribile per i padri dico è chiaro che siamo noi che abbiamo più il carico della vita familiare che però va contemperata con tante cose che ci stiamo appunto ridefinendo la nostra identità cioè se c'è un argomento che metti dieci donne in una stanza se c'è un argomento che suscita l'attenzione di tutte è come fai a fare come fai a incastrare come fai a tenere insieme perché tutte siamo così complicate credo momenti di preghiera in famiglia tutti e sei la messa la domenica poi io i miei momenti li trovo da sola cioè vado dalla messa la mattina dopo lasciati i bambini poi vabbè con i bambini dico le preghiere la sera prima di dormire e poi io incastro appunto sempre mentre faccio altre mille cose magari mentre guido dico il rosario mentre aspetto che ne so che si liberi il montaggio dico l'ufficio delle letture eccetera però momenti tutti e sei no perché mio marito è come dicevamo prima gli uomini credono diversamente voglio rispettare anche la sua diversità la sua sensibilità e per quanto riguarda i figli magari se ci sono periodi ecco in avvento in quaresima magari diciamo qualche decina di rosario insieme però io non so se sbaglio non so se mettermi a esempio in questo perché non lo so quale sia ho sentito come ho scritto anche tra le amiche cattoliche tutta la gamma di possibili c'è chi porta a messa tutti i giorni chi fa dire il rosario chi solo una decina chi solo le lodi chi solo i vespri chi li lascia liberi insomma io cerco di mettere qualche momento e soprattutto di parlare di Dio e dei santi come di persone di casa questo sì cioè di far vedere anche di comunicare un rapporto vivo che io credo insomma di avere tipo l'altro giorno una bambina qualche giorno fa una bambina mi ha chiesto mamma ma qual è quel santo per le scarpine di Barbie che non la ritrovo era Sant'Antonio no? credo ho chiesto anche a un vescovo conferma dice che Sant'Antonio va bene cioè cerco di comunicare oppure una ha detto voglio un anello come Santa Caterina perché ho raccontato che Santa Caterina Gesù aveva regalato l'anello cerco di comunicare un rapporto vivo così poi non so se faccio bene vabbè li porto a catechismo non lo so se basta non so qual è la vostra esperienza no? perché penso che le donne di quella generazione ci hanno ancora troppo vivo il ricordo di quando sottomissione significava essere oggetto di una dominazione violenta anche se non violenta nei fatti però insomma non come una donazione scelta e libera magari come hai fatto tu sei medico e poi hai deciso liberamente di stare a casa per seguire i figli allora tu la vivi come una donazione no infatti immagino però per te è un dono libero e spontaneo invece magari per le nostre mamme stare a casa è stata quasi l'unica scelta l'unica una via obbligata non una scelta libera e quindi quando non è libera io capisco che in certi casi possa essere pesata anche magari una soggezione con una dipendenza economica una dipendenza insomma totale dal marito se non è se non è scelta e se non è fatta in quest'ottica di servizio reciproco di donazione reciproca io capisco che possa pesare infatti rispetto molto questo tipo di critiche perché capisco che per me è facile dire cioè lavoro alla RAI faccio tutto quello che voglio insomma quello che voglio per modo di dire che poi tutti si immaginano chissà che lavoro meraviglioso però capisco che da fuori posso sembrare magari ecco la donna emancipata che gioca a fare la sottomessa in realtà credo che diciamo il mio libro si riferiva a realtà più spirituali cioè il lavoro occupa un capitolo anche abbastanza breve in realtà io parlo di una realtà spirituale di una insomma di una cosa più profonda però capisco che chi ha ancora la ferita di quel tipo di dominio possa in il vostro giustizio grazie